Fortunatamente non abbiamo registrato dei particolari problemi alla viabilità. Ritengo che la situazione sia sotto controllo, così il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, dopo l'ondata di maltempo, che ha colpito il centro Abruzzo e ha fatto risvegliare anche il capologo Peligno con la coltre bianca. La città era stata prevista, c'era stata comunicata dal centro funzionale di protezione civile. Abbiamo adottato naturalmente la delibera del piano neve. Sono state fatte diverse riunioni con i dirigenti, quindi il quarto settore è in allerta per quanto riguarda tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la viabilità. Abbiamo acquistato il sale e quindi abbiamo un po' di sale dall'anno scorso e quindi ritengo che la situazione oggi sia sotto controllo. La neve in città questa volta non ha provocato danni ingenti. Ci è arrivata qualche segnalazione di assenza di energia elettrica dalle marane. I tecnici dell'Enel ci dicono che la situazione è sotto controllo, rassicura il primo cittadino. La mattina abbiamo ricevuto qualche segnalazione per quanto riguarda la mancanza di energia elettrica nella zona delle marane. Abbiamo naturalmente, tempestivamente, contattato l'ufficio dell'Enel e ci dicono che la situazione è sotto controllo. Serena la reazione dei sulmonesi. È tempo suo e che faccia la neve. A fine novembre è anche normale, hanno detto giovani esercenti. Solo qualcuno stamane temeva che il maltempo avrebbe rinchiuso i sulmonesi nelle loro case. È arrivata la neve questa mattina la sua prima reazione. La neve è buona, per noi si tira la gente, non esce la gente. Sinceramente la neve ci vuole. Sono contento che ci sia. Certo è un disagio per i cittadini e per i commercianti, però ci vuole. È una reazione del tutto normale perché ci sono abituati. Non posso fare altro che essere estremamente felice, poiché ho sempre aspettato con gioia l'arrivo della neve. Sicuramente è un bel effetto. A me piace, anche se sono ormai abituato da tanti anni. Crea un po' di disagi per chi deve viaggiare. Però tutto sommato siamo a fine novembre, quindi è giusto così che faccio. Altri non hanno perso l'occasione per mettere in guardia l'amministrazione comunale per tagliare gli alberi secchi che creano pericolo e disagio in questi casi.